È stata una bellissima esperienza, mi sono sentita molto bene sul ghiaccio, il pubblico era fantastico, c'era un sacco di tifo che mi ha dato molta carica. Ho cercato anche di isolarmi per non essere troppo contagiata e non affrettare o sbagliare gli elementi del mio programma. E devo dire che sono contenta perché ho gestito molto bene, mi sentivo molto presente durante i miei salti, i miei elementi. Ho fatto qualche errore, qualche pasticcio, soprattutto nel secondo triplo lutz che era molto bello e poi all'ultimo mi è mancato l'appoggio sul ghiaccio per fare la combinazione. Per il resto sono soddisfatta. La mia stagione continua con i campionati nazionali che sono proprio fra cinque giorni, quindi facciamo le valigie e torniamo a Milano tre giorni di allenamenti, poi di nuovo qua in Trentino perché saranno a Milano e quindi venerdì avrò lo show programma e sabato il libero. In base a come andranno i nazionali si deciderà il resto della stagione. Le tue aspettative per il futuro della propria giornata? Allora, io sono molto fiduciosa, mi sento bene, mi sento che sto entrando nella forma giusta, sono molto più consapevole di quello che so fare perché arrivo da una junior dove facevo molto bene gli elementi tecnici senza crederci abbastanza. Ora mi sento più padrona della situazione, quindi ho fiducia e continuerò a lavorare, a farmi fare del mio meglio in allenamento per poi ottenere quello che voglio in gara.